Eccoci ad un nuovo appuntamento. Oggi voglio parlarti di un'emozione che attanaglia tantissime persone, il senso di colpa. Nel video di oggi ti spiegherò che cos'è il senso di colpa, andremo a vedere la differenza tra senso di colpa sano e non salutare, cercheremo di capire quali sono le cause del senso di colpa e successivamente ti parlerò di un senso di colpa che affronto molto spesso in terapia, quello nei confronti dei propri pensieri e delle proprie emozioni. Ma prima di iniziare, un attimo per la sigla. Ciao, se non mi conosci mi presento. Io sono Angelo e sono uno psicologo. Oggi ti parlo di senso di colpa. Ho deciso di affrontare questo argomento perché mi capita molto molto spesso di trattarlo in terapia. Ci sono persone che combattono con il senso di colpa tutta una vita. Qualunque cosa facciano, qualunque attività intraprendono o qualunque rapporto vadano ad instaurare, provano un profondo senso di colpa. Cerchiamo oggi di capire che cos'è il senso di colpa e quando questo diventa disfunzionale. Ma prima di andare avanti, ti ricordo che se sei appassionato di psicologia, se vuoi migliorare la tua autostima, se vuoi affrontare i problemi quotidiani grazie a piccole strategie psicologiche, devi entrare a far parte della mia community. Iscriviti al canale e clicca sulla campanellina delle notifiche. Se poi vuoi ulteriormente sostenere questo mio canale, metti subito un like al video. Questo permetterà ad altre persone di vederlo. Ma ora torniamo all'argomento principale del video, il senso di colpa. Proviamo a riflettere su che cos'è questa emozione. Molto spesso questa emozione ha origine quando percepiamo di aver danneggiato o fatto soffrire qualcuno. Il senso di colpa è quell'emozione sociale che noi proviamo perché ci porta ad essere responsabili per la sofferenza altrui. Infatti il senso di colpa è strettamente legato al senso di responsabilità. La persona che si sente in colpa è colei che pensa di aver danneggiato o ferito un'altra persona. Prima di andare avanti e spiegarti la differenza tra senso di colpa sano e non salutare, ti consiglio di prendere un foglio di carta ed una penna. Scrivi e descrivi in maniera dettagliata una situazione nella quale ti sei sentito in colpa. Successivamente, grazie a questo video, potrai capire cosa c'era la base del tuo senso di colpa e cosa ancora più importante se questa emozione era salutare o meno. Cosa differenzia l'emozione sana da quella non salutare? In passato, in un precedente video, ti ho fatto un quadro generale sulle emozioni salutare o meno. Se lo hai perso, ti lascio il link giù in descrizione. Oggi focalizziamo meglio l'attenzione sul senso di colpa. Per illustrarti un esempio di senso di colpa sano, voglio parlarti di Marta che un giorno, arrabbiata col figlio perché urlava in continuazione, gli diede una pacca sul sedere. La ragazza si fermò all'improvviso e si sentì in colpa. Pensò tra sé che era un gesto che non voleva fare. Non era la forma di educazione che desiderava trasmettere al proprio figlio e si impegnava a non fare più un gesto simile. Il senso di colpa della ragazza era sano, in quanto era adeguato alla situazione e in più la motivava a migliorare. Il tratto fondamentale del senso di colpa sano è che questo è adeguato all'esperienza e al dolore che si è provocato e in aggiunta non interferisce, non ci blocca, non va ad intaccare la nostra quotidianità e le nostre relazioni interpersonali. Cosa che invece avviene quando si prova un'emozione disfunzionale, un'emozione eccessiva, in questo caso un senso di colpa eccessivo. Ed è il caso di Giulia che, sentendo che il figlio urlava in continuazione e che non la smetteva nonostante lo avesse richiamato con calma, diede uno scappellotto al sedere del figlio. La donna si sentì profondamente in colpa. Pensò tra sé che non doveva assolutamente fare un gesto del genere, che era totalmente sbagliato, che il fatto che avesse fatto un gesto simile significava che era una cattiva madre. Per rimediare al danno che aveva provocato, da quel momento accontentò il figlio in ogni suo capriccio. Come puoi notare, a differenza della prima situazione, la nostra seconda amica provò un forte senso di colpa a causa delle sue convinzioni rigide. A differenza della nostra prima amica, che pensò che era un gesto non adeguato, che sarebbe stato meglio evitare, nel secondo caso le regole comportamentali erano più rigide. Non dovevo assolutamente fare un gesto simile. Se ho fatto un gesto simile, significa che sono una cattiva madre. Alla base del senso di colpa non salutare, alla base del senso di colpa disfunzionale, troviamo rigide regole di comportamento. Molto spesso queste regole sono caratterizzate dalle parole non devo assolutamente. È impossibile che io faccia una cosa del genere. Queste regole di comportamento rigide fanno sentire la persona in colpa ad ogni minimo errore. Un atteggiamento simile, come puoi immaginare, è totalmente irrazionale. Per quanto noi ci possiamo impegnare a migliorare, ci possiamo impegnare a non danneggiare nessuno. Desideriamo essere persone corrette, persone morali, persone giuste. La realtà della vita, la realtà della nostra umanità è che a volte ci comportiamo in maniera irrazionale, immatura, a volte in maniera emotiva e che possiamo sbagliare. L'irrazionalità delle regole rigide di comportamento sta nel non accettare che siamo esseri umani imperfetti. Un'altra conseguenza del senso di colpa non razionale è che può portarci a mettere in atto comportamenti non salutari per noi o per la relazione. Ora prova a prendere l'esercizio che ti ho proposto. Analizza la situazione che hai scritto prima e cerca di capire quali pensieri, quali regole ti hanno fatto sentire in colpa. Erano regole flessibili che ti spingevano al miglioramento o erano regole rigide di comportamento su ciò che dovevi fare oppure che non dovevi fare. Nel secondo caso è fondamentale che tu impari ad essere più comprensivo nei confronti di te stesso. Ricordati che sei un essere umano e come tale può accadere che tu commetta errori e che tu involontariamente possa ferire qualcuno. Come ti ho detto all'inizio del video, oggi voglio approfondire un senso di colpa molto particolare, quello nei confronti dei propri pensieri e delle proprie emozioni. Ho deciso di trattare questo argomento perché l'altro giorno mi sono trovato a lavorare con Stefania. Stefania è stata contattata da un'amica affinché l'accompagnasse a fare una commissione. Nonostante Stefania non avesse voglia, ha accettato per il bene dell'amica e della loro amicizia. In macchina però cominciò a sentire un po' di rabbia e di turbamento nei confronti dell'amica. Disse che era impossibile che una ragazza di 25 anni non fosse indipendente, che le scocciava un po' doverla accompagnare a fare questa commissione e che avrebbe preferito stare a casa. Quando mi ha raccontato questa storia Stefania mi ha detto anche che provava un forte senso di colpa. per i pensieri e le emozioni che aveva provato. Ha detto che una vera amica non dovrebbe avere quei pensieri. Una vera amica non dovrebbe provare rabbia nei confronti dell'altra amica. Queste convinzioni sono molto molto frequenti. Abbiamo spesso dentro di noi delle regole rigide su ciò che dovremmo pensare e su ciò che dovremmo provare. La realtà è che noi non siamo totalmente responsabili dei nostri pensieri. Può accadere che a volte abbiamo pensieri negativi su qualcuno, anche su una nostra amica oppure su una persona a noi cara. Può accadere che anche se amiamo tantissimo una persona possiamo provare in alcuni momenti rabbia verso di lei. La realtà torna a ripeterti che siamo esseri umani. Purtroppo molte persone si criticano per i pensieri e le emozioni che provano perché agganciano alle emozioni e ai pensieri il proprio valore personale. Come ad esempio Stefania pensava che se avesse avessi avuto quei pensieri avrebbe significato che lei era una pessima amica, una pessima persona, perché una vera amica non prova rabbia e non ha quei pensieri brutti. La realtà è che pensieri possono esserci. Non è importante il pensiero, ma la cosa fondamentale è come noi ci comportiamo. Se il pensiero rimane dentro di noi, se l'emozione riusciamo a gestirla e ci comportiamo in maniera corretta, spinti dai nostri valori, non possiamo sentirci in colpa per qualcosa che non è totalmente sotto il nostro controllo. Ti è mai capitato di sentirti in colpa perché hai avuto dei pensieri negativi o perché hai provato delle emozioni spiacevoli verso qualcuno? Spesso questo avviene perché hai collegato quei pensieri e quelle emozioni al tuo valore. Quando mi trovo a lavorare su questo argomento in terapia lancio sempre una provocazione. Ti è mai capitato in macchina di guidare e di trovare davanti dei ciclisti che vanno lenti? Ti è mai capitato di pensare che di li avresti voluto investire o di provare rabbia nei loro confronti? Se sei come la maggior parte delle persone, hai avuto questi pensieri e queste emozioni. La realtà è che noi possiamo avere tantissimi pensieri, provare tantissime emozioni e poi continuare a comportarci in maniera corretta, giusta. Il fatto di aver avuto pensieri negativi nei confronti dei ciclisti non ti rende automaticamente un serial killer o un assassino. La realtà è che quei pensieri possono esserci e noi possiamo tranquillamente non dargli retta. Quando ti senti in colpa cerca di analizzare il tuo dialogo interiore, quello che dici a te stesso in quei momenti, attraverso l'analisi del dialogo interiore, attraverso l'osservazione delle regole che ti hanno portato a sentirti in colpa, potrai smontare questa emozione alla radice. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto. Ti consiglio di andare in descrizione dove troverai altri video di approfondimento sulle emozioni e come gestirle. Ti ricordo che puoi seguirmi anche su Instagram e Facebook per avere un contatto quotidiano e tante stimolazioni per la nostra crescita personale. In aggiunta ti consiglio di vedere questo mio video sulle emozioni salutari e quelle che non lo sono e mi raccomando iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo appuntamento.